ciao bentornati al mio canale di cucina oggi vi insegno a farle frappe guardate bene il video e la ricetta sotto nella descrizione vi do solo alcuni consigli l'importante è far riposare l'impasto almeno una notte se potete 4 5 ore dargli le pieghe e farlo preggere in olio ben caldo insegno anche a fare molto piccole ok queste sono come per i petifu ora fine cena ne facevo 600 al giorno da fini a modena ormai vent'anni fa altrimenti le facciamo classiche grandi oppure annodate come quando facevo in stage nella prima passagerina in cui ho lavorato seguitemi per altre ricette ciao 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 Grazie.